Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Bertelli Antonio, sono dal lago di Garda, Tesenzano, ho 55 anni, faccio un benzinaio di lavoro fisso e poi in passione faccio un APJ, suono nei locali la musica, è la mia passione da una vita. Mi trovo qua in Moldavia a Cesinao, Cesinao è la seconda volta che torno, sono venuto l'anno scorso a novembre, poi per motivi di lavoro non potevo prima, sono venuto adesso a ottobre a finire il lavoro, cosa posso dire? Niente di negativo, qui trovate l'assistenza che vorrei di testa, che in Italia per me non si trova, prezzi lo sapete, prezzi ci siamo, perché si risparmio dei soldini, assistenza seguiti, liberiti, visite, io ho finito il lavoro ieri, ho sui denti miei, perché io dico che sono miei, perché li sento miei, ho avuto problemi perché i denti ormai erano andati, mangiavo male, mangiavo poco, io da ieri sono ridato, ora è una decina di vita, a livello di masticazione, di sorriso, facendo sia il benzinaio che dice, sono a contatto con la gente tutti i giorni, i denti brutti non stanno bene, l'immagine è anche importante, ma anche la masticazione, mangiare, perciò tutti quelli che possono sentirmi, io ve lo consiglio, contattate, fate preventivi, io ne ho fatti tanti, ci ho messo due anni per decidermi, anch'io, per paura, per tanti fattori, mi sono pentito e non ve l'ho fatto prima, qui trovate tutto, tutto, dall'assistenza siete seguiti 24 ore su 24, persone gentili, non ho nessuna, se volete vi faccio vedere anche i denti, faccio vedere il sorriso nuovo che ho fatto, questo mi sorriso, con denti certo finti, ma come fossero i miei, perché non li sento, li ho messi ieri, 90 anni fa, io ho mangiato, e li sei tranquillo, è come se io devesse sempre avuti, e questo è importante, perché non è facile, per tutti i versi, altre cose, ma se per cosa dire, ve lo consiglio, contattate, guardate in internet, fate le vostre votazioni, come ho fatto anch'io, come fanno tutti, alla fine mi sono deciso, mi sono pentito, ripeto, di non essere venuto prima, che avrei risolto prima questo problema, e per finire a salutare tutti i miei amici che mi conoscono, e mi ve lo faccio vedere, è perché giustamente mi faccio pubblicità, chi mi conosce, sull'agro di garda lo sa, sono dilettante, non sono professionista, me lo faccio con passione, questo è quanto, vi saluto, vi ringrazio, contattate senza paura, che vi seguiranno dall'inizio alla fine, ciao ragazzi, alla prossima!